l'anificio è perché tu ovviamente si è il forno elettrico ma non è che c'erano stesse cifre rispetto a rispetto a 2.000 1.800 3.000 17.000 ma io ho sentito di un bar noto di palermo 60.000 euro non ho visto la bolletta e questa è la tua però no no questa è di un mio amico che ha un forno qua vicino bolletta ordinaria esattamente un mese un mese impressionante è pieno un mese quella che mi dicevi del centro commerciale del bar che abbiamo un bar di 5.800 numeri la panoramica qua sopra è derivata a 30.000 la fa vedere la bolletta